L'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile numero 748 del 2 marzo 2021, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 64 del 15 marzo 2021 e riporta le disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dei eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020, nel territorio dei comuni di Libonati, di Torre Orsaia, di Spani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Rocca Gloriosa e di Monte Corice, in provincia di Salerno. Sono felice di poter comunicare che anche per il comune di Santa Marina sono state stanziate le risorse per i cittadini e le attività economiche danneggiati dal tempo che ha colpito la nostra comunità nel mese di novembre 2020, spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato. Molte persone in questo evento calamitoso hanno visto svanire in pochi attimi i sacrifici di un'intera vita e per questo è giusto accedere ad una forma di risarcimento. Per l'amministrazione Fortunato è sempre stato molto importante tutelare e salvaguardare i cittadini e in questa nefasta circostanza ci siamo mossi tempestivamente in questa direzione, dichiarando rapidamente lo stato di calamità naturale e attivando tutte le procedure affinché si potesse avere il giusto indennizzo per i danni subiti. Continuo ad esprimere tutta la solidarietà a mia e dell'amministrazione comunale alle persone che hanno subito ingenti danni da questo evento disastroso.